La pericardite è un'infiammazione dei foglietti pericardici, una struttura che circonda e protegge il nostro cuore. Le cause delle pericardite sono soprattutto quelle infettive, virali o batteriche. Talvolta però l'infiammazione del pericardio può essere una complicanza dell'infarto del miocardio, può essere complicanza di traumi a livello toracico e purtroppo può essere la rappresentazione di neoplasie. Per quanto riguarda il trattamento del pericardite ci si può avvelere a livello farmacologico degli antinfiammatori, sia quelli corticosteroidei ma anche i farmaci non corticosteroidei, quale il ibuprofene o la colchicina. Quando la pericardite non risponde al trattamento farmacologico antinfiammatorio oppure in alcuni casi quando il liquido è talmente abbondante da compromettere la funzionalità del nostro cuore è necessario intervenire interventisticamente attraverso un drenaggio pericardico e in casi particolari si deve ricorrere ad un intervento cardiochirurgico, la cosiddetta finestra pericardica.